Sopraluogo tecnico per verificare la nuova, quella che sarà la nuova sede di Assonautica Taranto. Siamo infatti nella splendida cornice del lungomare di Taranto, una giornata primaverile, un mare baciato dal sole, un sole che luccica sulle acque. Non è poesia ma è verità. Beh, siamo con Matteo Dusconi, direttore generale di Assonautica. Penso che questa sia la location ideale. Oggi è una giornata bellissima, è una giornata speciale. Oggi facciamo un sopraluogo tecnico per prendere possesso della nuova base nautica di Assonautica. L'abbiamo voluta scegliere in città, in questa nostra meravigliosa città, per dare un valore aggiunto. Noi siamo stati ospiti per tanto tempo della Camera di Commercio di Taranto, però non abbiamo mai potuto avere una base nautica, una base sul mare, dove poter fare la nostra attività, la nostra mission, che è fatta di piccoli sport nautici, ma anche e soprattutto di fare economia del mare. Ora questa base nautica l'abbiamo un po' così coccolata, abbiamo chiesto l'autorizzazione, abbiamo chiesto la concessione, l'abbiamo ottenuta, finalmente quindi oggi ne parliamo dopo tanto tempo. Non abbiamo dovuto parlarne prima per un fatto così anche di discrezione, quindi vogliamo essere convinti di ammazzare l'orso per poi venderne la pelle. Quindi oggi siamo orgogliosi di poter accedere a questa nostra struttura, che metteremo a disposizione dei soci Assonautica, ma anche di tutta la città.